Una notte di teatro verità nel cuore della città, nella corte interna del collettivo Le Onde di Tarato, la compagnia teatrale Voci del Mare è tornata in scena con una nuova produzione toccante e convincente, gli argini di Spoon River, su testi originali della poetessa e drammaturga Mara Venuto, con la regia di Vladimir Voccoli, nella veste anche di attore, insieme a Daniela delle Grottaglie e Anna Maria Netti, con le musiche originali di Michele Mancone e le luci e i suoni di Vincent Nieddu, tre attori di grande intensità espressiva, la chitarra e la voce di un cantautore ispirato, al servizio di tre monologhi emozionanti, drammaticamente veri, su tematiche di stretta attualità, il nuovo lavoro di Mara Venuto e della compagnia Voci del Mare è un invito a prestare attenzione ai bisogni dell'umanità più fragile, un messaggio di inclusione, accolto e recepito con commozione dal nutrito pubblico che ha preso parte alle due repliche, entrambe sold out. Questi personaggi davano proprio l'idea dello spettacolo che volevo fare, cioè andare oltre lo stereotipo che tutti noi ci facciamo sulle persone, ci creiamo sempre un'immagine dell'altro fuori da noi, ma in realtà c'è sempre qualcosa di nascosto che noi non osserviamo e questi tre personaggi hanno entrambi tre cose nascoste, tre cose nascoste che cercano di proteggere, però dalla narrazione viene fuori proprio tutta la loro umanità e quanto in realtà siano vicini a noi. Il nostro obiettivo con questo spettacolo era quello di accendere la luce, far vedere quello che normalmente non si deve vedere o non si vuole far vedere e dare quindi voce ad un'umanità che è l'umanità che abbiamo accanto, è l'umanità di tutti i giorni, persone che sfioriamo per strada, che abbiamo accanto nella porta dello stesso pianerottolo, abbiamo anche dentro casa spesso, a volte non ci si conosce profondamente neanche pur vivendo nella stessa casa. Lasciami senza, lasciami senza luce, in questo tunnel...